Nello, ma c'è bisogno di tutti questi gear davvero per fare buona musica? Allora, bella domanda, molto interessante. Allora, ovviamente auguro a tutti voi di arrivare a poter costruirvi il vostro studio tipo il nostro. È il nostro angolo di paradiso e ce lo siamo costruiti un po' con le macchine che ci piace usare. Io ho la mia idea, nel senso che produrre nasce innanzitutto da una cifra stilistica di arte. Prima di tutto bisogna saper tramandare la propria arte, la propria cifra stilistica nella musica. E questo, a mio parere, può avvenire anche semplicemente con un laptop e la vostra dock utilizzate, anche addirittura con i plugin nativi della dock. Perché con tutto questo che abbiamo qui in studio nulla nasce se non c'è la giusta idea. Ovvio che sicuramente un suono cucinato, come ci piace dire, con degli hardware esterni può prendere quel colore un po' più piacevole. Però tutto questo, ripeto, non servirebbe a nulla senza quell'idea, quello spunto e quella genialità artistica. Quindi, non vi preoccupate se non avete tutto questo. Potete tranquillamente fare una hit con quello che avete nel vostro studio. Ovvio che poi è opportuno poter fare un mix e un master del vostro brano in uno studio, casomai, come questo. E voi raccontateci con cosa producete e che tipo di studio avete qui nei commenti. Ciao!